Benvenuti al gioco primo di Berlino. Avete 10 secondi di tempo per scoprire cosa sta facendo Damas solo sul divano. Non l'avete ancora capito? Andiamo a scoprirlo! Sta grattugiando il formaggio! Porcelloni! Ma parco di... Te l'hanno tratto anche un po' fuori. Ragazzo ti ha dato il vaso grosso apposta! Ma si grattugia bene?